Muoversi Meteo Nuvoloso ma con schiarite nella seconda parte della giornata. I venti ispireranno deboli d'est e nord-est con locali rinforzi soprattutto durante la notte. Il mare poco mosso sotto costa e molto mosso a largo. Adesso diamo uno sguardo alle temperature che diminiranno nei valori minimi e aumenteranno in quelli massimi. Bene è tutto per ora, grazie per la cortese e attenzione.